Dopo tre mesi di indagini si risolve il giallo della morte di Catalin Bucataro Iuliana, l'abbadante romena di 38 anni che venne trovata senza vita lo scorso 5 novembre in un'abitazione dove prestava servizio ad un anziano a Colli di Monte Bove, frazione di Carsoli, in provincia dell'Aquila. Il compagno Andrei Ferro, romeno di 52 anni, è stato incastrato dalle tracce di sangue che ha lasciato sul luogo del delitto avvenuto a seguito di un violento litigio causato da un attacco di gelosia. Ferro questa mattina è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo con l'accusa di omicidio volontario. Decisivi gli esami scientifici, le tracce di sangue ritrovate sul muro dai militari di Carsoli guidati dal capitano Silvia Gobini in collaborazione con il race di Roma non sono state giudicate compatibili dal medico legale con una caduta accidentale ma con una violenta aggressione. Ferro, secondo quanto ipotizzato dal sostituto procuratore di Avezzano Maurizio Maria Cerato, avrebbe riportato la donna nell'abitazione dove lavorava e in seguito ad un litigio le avrebbe afferrato la testa sbattendola ripetutamente sul muro e provocandone la morte. All'arrivo del 118 e dei carabinieri il giorno del delitto la donna era stata ritrovata alla base delle scale in un lago di sangue. Sullo stesso muro l'anatomopatologo Cristian Dovidio ha effettuato dei rilievi riscontrando un'altezza delle macchie di sangue incompatibili con la caduta che quindi non sarebbe mai avvenuta. La donna non è morta sul colpo ma due giorni dopo il ricovero nell'ospedale ma ad incastrare Ferro ci sarebbe anche un'ultima telefonata della donna ad un amico. Agonizzante avrebbe detto sto morendo prima che il suo telefono fosse afferrato dall'assassino che avrebbe anche minacciato l'interlocutore chiedendogli di non chiamare più.